Credo di essere stato in assoluto uno dei tifosi juventini, dei creator juventini più criticati la settimana scorsa, quando all'inizio, senza sapere che non vi era effettivamente il divieto dell'ASL della campagna di non far partire il Napoli, avevo detto, beh ragazzi non hanno tutti i torti, se hanno un divieto e addirittura l'intento è preservare comunque i giocatori del Napoli e paradossalmente parallelamente anche quelli della Juventus, non mi sembra una cosa così sbagliata. Poi c'è stata l'evoluzione, poi c'è stato il documento dell'ASL, l'abbiamo letto, l'abbiamo riletto, abbiamo capito come è fatto questo benedetto protocollo, abbiamo capito che tutti i presidenti di Serie A avevano approvato questo regolamento che per quanto ripeto ancora una volta, lo sottolineo, non mi piaccia, è da applicare. Prima di tutto scaricate OneFootball dove troverete le informazioni a proposito di quello di cui stiamo parlando, cioè Juventus-Napoli, una partita infinita, una partita che non si è giocata e che si giocherà, quindi su OneFootball trovate tutti gli aggiornamenti, tutti gli aggiornamenti in tempo reale, perché ieri doveva esserci una risposta da parte del giudice sportivo che non c'è stata, quindi scaricate OneFootball, mettete un mi piace a questo video e commentate qui sotto per cercare di creare una discussione insieme a me, per farmi capire se effettivamente la pensate come me oppure se siete in disaccordo. Sono anche stato uno di quelli che si era dato fortemente, si era fortemente schierato contrario al 3-0 a tavolino, per un concetto di calcio, no? Poi vengono fuori alcune informazioni, appunto l'ASL non ha vietato la trasferta al Napoli, vengono fuori i tamponi, alla fine per fortuna tutti negativi nel Napoli, si è aggiunta un po' però l'Inter e anche l'Italia Under 21 e questo è un problema, ma soprattutto ragazzi, soprattutto in questo momento c'è un regolamento e questo regolamento non è applicato. Io addirittura non sapevo che oltre il 3-0 a tavolino in Napoli avrebbe rischiato o meriterebbe, tra virgolette, mettiamolo come volete, il punto di penalizzazione. In questo momento ci sono più versioni. Dato che è stato rimandato ancora una volta il giudizio del giudice sportivo, in questo momento si sta dicendo o si rinvia e si dà un punto di penalizzazione al Napoli, o si dà il 3-0 a tavolino alla Juve e si dà il punto di penalizzazione al Napoli, oppure si rinvia e basta. Fermi un secondo, fermi un secondo. Io lo so perché sono stato il primo a dirlo, è un caso particolare, specifico, perché il Napoli ha giocato contro il Genoa che era un focolaio e che quindi purtroppo il Genoa aveva in qualche modo intaccato la solidità di questo campionato dal punto di vista clinico, dal punto di vista medico. Però mi metto anche nei panni, che ne so, del Milan o delle squadre che hanno giocato contro il Milan, che aveva dei positivi e sono scese in campo, ma anche nei panni dello stesso Napoli, che la settimana prima era sceso in campo contro il Genoa, ma anche nei panni dello stesso Genoa, che sapeva di avere due positivi ed è comunque sceso in campo. Il Napoli ha scelto, ha deciso di non scendere in campo. Non venitemi a dire che è stato bloccato dall'ASL, per l'amore del signore, perché se mi dite che è stato bloccato dall'ASL non avete capito il discorso, non avete capito il documento dell'ASL, non avete capito quello che è il protocollo di Serie A, non avete capito che la differenza tra cittadini e giocatori di Serie A sta nel fatto che c'è un protocollo diverso da osservare, dato che è stato condiviso con il governo, con la Lega Serie A, con tutti i presidenti delle squadre che la rappresentano. Sono contrario al 3-0 tavolino per un discorso etico-morale di sport e di spettacolo. Però ragazzi, se c'è un regolamento e addirittura lo andremo a modificare, perché sicuramente questo documento andrà modificato, perché purtroppo non era stato previsto un focolaio così grande del genere, ma questa cosa rischia di rivoluzionare tutto quello che si erano detti, quindi andrà sicuramente rivisto. Ma quelle regole che giustamente, ripeto, verranno rivisitate, dovranno essere applicate dopo, a posteriori. Non puoi dirmi, non puoi dirmi, che c'è un regolamento e che non va bene e che quindi lo modifichiamo e non vale da oggi, ma vale da una settimana fa, perché c'è stato questo caso clamoroso di una squadra che non si presenta per fare una partita. E ripeto ancora una volta, secondo me, il Napoli aveva le sue buone ragioni di non presentarsi. Però ragazzi, una volta che decidi di fare una roba così forte, te ne devi assumere completamente le responsabilità. Che era dei precedenti è sempre sbagliato. Tra l'altro, mi fa ridere, perché siamo in periodo di asta del fantacalcio, dato che il mercato è appena concluso, io ce l'avrò lunedì insieme ai miei amici, e questo sembra veramente il tipico comportamento di quelli che all'interno dell'asta del fantacalcio non hanno delineato alcune regole, o comunque ci sono le regole ma non le vogliono seguire. Purtroppo qua non stiamo giocando il fantacalcio, qua stiamo giocando il campionato di Serie A. E l'unico modo per finire, per terminare questo campionato di Serie A, che è già iniziato malissimo, è attenersi rigidamente alle regole, in maniera fredda, in maniera poco emotiva, in maniera poco razionale, andando anche contro la logica e il buonsenso, ma seguendole ci sarà per sempre un dissapore, ci sarà sempre qualcuno che dirà eh ma no, io sarò uno dei primi probabilmente, perché l'avevo già detto, giocare contro il Napoli, che è questa situazione che aveva giocato contro il Genoa, non è che mi faccia impazzire, non mi va genio. Per fortuna mia non si è giocata, quindi i giocatori da Juve da quella cosa lì sono rimasti al sicuro, poi vedremo con questa storia delle nazionali. Erano proprio necessarie le nazionali, eh? In questo momento storico serviva assolutamente una partita nazionale. Sapete, io adoro la nazionale, mi piace tantissimo, mi sono approcciato al calcio con la maglia azzurra, però in questo momento mi sembra veramente una cosa abbastanza fuori luogo, molto fuori luogo. Poi iniziano a girare, no? Anche le voci, ah la Juventus ha violato la quarantena perché i giocatori sono andati in nazionale, no? Non è andata assolutamente così. O se è andata così è giusto che la Juventus paghi, perché chi sbaglia deve pagare. Chi si assume delle responsabilità, chi prende delle decisioni forti, si assuma poi le proprie responsabilità. Mi viene anche da dire, perché qualcuno mi ha detto, eh beh il documento dell'Asle non era chiaro, l'Ampoli potrebbe aver frainteso e non capito. No, no. Mi rifiuto di credere che una squadra di Serie A non sia in grado di leggere, analizzare un documento di una facciata di un foglio A4 da stampante e metterlo giù, analizzandolo rispetto al protocollo, rispetto al regolamento, che lo stesso presidente o chi per lui, i rappresentanti legali del Napoli, hanno firmato soltanto 40 giorni prima. Se è andata così è doppiamente grave. Due volte, tre volte grave, anche perché comunque non hanno fatto la famosa bolla, il famoso ritrovo tra calciatori post-tampone. Erano sull'autobus, era tardi, erano già a casa, non dovevano farlo, semplicemente non dovevano farlo. Castelvorturno, l'hotel non era ancora attrezzato per ospitarli. È ancora un errore, è ancora un errore, perché la struttura deve essere pronta nel momento esatto in cui inizia il campionato, perché sai che se succede qualcosa, ritiro, come l'evento si è fatto al G-Medical. Poi, al seguito di X tamponi, non sono due o tre tamponi negativi, la bolla viene rotta, tutti a casa, questi tamponi vengono dilazionati nel tempo, questo è il caso del Napoli, che in questo momento non ha altri positivi se non Zelinski e Delmas, e quindi può praticamente rompere le righe dopo X tamponi negativi da parte di tutti, come ha fatto la Juventus, tra l'altro, dato che era andata in bolla la sera prima, perché due componenti dello staff, i cui nomi non sono ancora stati rivelati, erano stati trovati positivi al tampone per il Covid-19. Quindi ragazzi, mi dispiace. Adesso vedremo questo rinvio del giudice sportivo che cosa vorrà dire. Io sono fortemente contrario al 3-0 a tavolino a livello etico, sportivo, di divertimento, perché, diciamoci anche proprio la verità, Juve-Napoli, Napoli-Juve, in questi nove anni di dominio bianco-nero, è stata una delle partite più sentite, più complicate, proprio perché il Napoli molti anni, tantissimi anni, era la squadra che era lì pronta a rubarci, provare a rubarci lo scudetto. Quest'anno, pochi mesi fa, ci ha alzato la Coppa Italia in faccia, quindi era anche il momento giusto per provare a rendergli pan per focaccia, era il momento giusto per rivedere Pirlo e Gattuso finalmente da avversari. Era tutto pronto, era tutto pronto. Il problema, ragazzi, è che se adesso rinviamo questo Juventus-Napoli, allora io mi aspetto un campionato in cui qualsiasi squadra, qualsiasi, qualsiasi squadra, qualsiasi squadra, che ha anche solo un caso di Covid, dice, non mi presento, mi faccio fare il documento dall'ASL, neanche necessario perché tu dovresti comunque metterti in isolamento fiduciario, autonomamente, secondo il protocollo della Serie A, e non gioco. La rinviamo, tanto la rinviamo, poi la rinviamo. E se in quel caso 3-0 a tavolino, crei un ulteriore precedente, perché il Napoli non l'aveva preso, nel caso. Mi dispiace, mi dispiace perché so che anche tanti tifosi del Napoli proprio qua mi avevano detto, bravo Luca, sei uno sportivo, l'hai ragionata bene, però sono anche uno che sapete, lo sapete, allora o ci mettiamo dalla parte della salute e quindi tuteliamo, va bene, hanno fatto bene a non giocare, però il regolamento lo prendiamo, lo stracciamo ed eventualmente il campionato di Serie A lo finiamo, non lo finiamo, facciamo delle partitelle, d'allenamento, non so, dei 21, così tanto per divertirci e non assegniamo il titolo, facciamo giocare giocatori così, oppure se vogliamo finire questo campionato di Serie A, ragazzi, bisogna attenersi veramente al regolamento, anche se ci fa schifo, o rivisitarlo e attenerci al regolamento migliorato, ma fino a che non verrà rivisitato dovrà valere quello che è stato deciso in consiglio di Lega con tutti i presidenti di Serie A che hanno firmato, perché se questo non si realizza allora è veramente uno schifo. Grazie. Grazie.